Buonasera a tutti Allora come promesso Eccomi pronta per il video Sulle creazioni in fimo Scusate la luce che è orribile Mi è rimasta solo sta lampada terrificante Però Almeno adesso in questo momento Sembra che non sfarfalla E Visto il momento particolare Oggi ho trovato tra virgolette un po' di tempo Perché comunque di là c'è il mio bimbo Ogni tanto viene a fare Chieste assurde E quindi niente Volevo ovviamente velocemente Perché sono questi due contenitori Più queste che ho selezionato tra le peggiori Quindi vi voglio far vedere al volo Queste di cui mi vergogno terribilmente Però come inizio Cerco di farvi vedere un po' gradualmente Fino alle ultime che comunque risalgono A tanto tempo fa E mi dispiace che non sono in grado Di Praticamente di poter inserire All'interno del video Le foto delle cornici nascita E cornici foto Che ho Fatto su commissione E consegnato ormai Quindi Ho le fotografie Però non credo che riuscirò A parte perché non l'ho mai fatto Però penso che con un po' di impegno Ce la potrei fare E non riesco ad allegare questo video Quindi magari chi è interessato Può andare sulla mia pagina Instagram o Facebook Che è Babylibicreazioni E magari poi Insomma Vederle ecco Quindi cominciamo al volo da questi Che alcuni mi fanno ride E vi faranno ride pure a voi Ma sono esperimenti assurdi Questo non so che cos'è Un elfo Questo è tutto naso Questi devono essere gli occhi Abbandonato così Di questi Va bene Vedrete tanti Perché la prima cosa Non questo Altri due E i primi La prima cosa che ho fatto in Fimo Sono stati Questo genere di Gnomi Elfi Poi Alcuni mi sono scordata le orecchie Alcuni i capelli Insomma Vabbè Vero disastro Mi sono anche Aspetta che ce ne sono altri Questo è con in mano l'iniziale Del mio bimbo Il problema Di molti sono le impronte digitali Che sono riuscita a evitare Da poco E Il Fimo chiaro Sporco di nero Però Comunque Ho delle impronte molto marcate Quindi si vedono sempre Altro elfo Dispiace che i colori Sano un po' alterati Il telefono continua Ma l'ho messo silenzioso Questo è un altro genere Vorrei poter mettere meglio La luce Forse è così Boh Vabbè Poi c'è stato Vabbè Quest'altro Tentativo Di Bambolina Però Ho avuto anche dei problemi A trovare il forno adatto E bruciavo Praticamente Tutto Altro gnomo Con gravata Altro gnomo Piccolo con ciuccio E tutto sporco di giallo Ho avuto la fase Degli orsacchiotti Poi ne vedrete degli altri Tentativo Gorgeous Schiacciato E vedrete anche molti Stile Toon Che devo dire Tra i più semplici da realizzare Passiamo al primo Mo cascherà tutto Ole Quindi come vedete Fiori come se piovessero Di tutte le grandezze Cercherò pure di rimetterli a posto Questo mi piace troppo Scusate Questo mi piace troppo Per come mi sono venute Le sfumature I colori E' stupendo Mi piace troppo E poi c'è il Giallo e oro E i piccolini Tutti gialli Diciamo che poi Le tecniche che ho affinato Sono più che altro Sono più che altro Quelle della Per le cornici Insomma Per E orsetti Di Tutti i colori Non ve li sto a far vedere tutti Quindi orsetti Altri fiori Per questo Mi piace un sacco 2000 riflessi Senza riflessi Non si vede Poi Altri ignomi Altra cosa che secondo me Mi riesce Secondo me Sono i libri Queste sono delle collane Che ho fatto come copia per me Ma erano per delle maestre Quindi Libri ceno Bianco Anche con i segni Dell'usura Questo era uguale Questo è un po' più particolare Sempre un libro Una collana Al libro Color Rosa antico Montate così Qui c'era la fase delle agende Quella mi è rimasta Però con quelle De quelle vere Questa doveva essere Un'agenda Arancione Con pagine azzurra Era solo per riciclare Delfimo avanzato Questo è un altro Tipo di agenda Perché io avevo una Filofax Di questo colore Un fungo Poi Sempre Con i libri Questo porta chiave Con i tre libri Uno sopra l'altro Qui dentro Non so perché C'è anche un Magaron gigante Con torre Eiffel In resina Abbiamo finito Vabbè Questa era l'evoluzione Degli ignomi E sì Qui abbiamo finito Ora passiamo In realtà All'ultime Le ultime Che sono Le ultime Vabbè Che sono Anche in ordine Di tempo Le ultime Fatte Allora Cominciamo da I dolcetti Piccoli Vabbè Così Perché sto più comoda Allora Questo Vi facciate solo Quelli fatti a mano Perché quelli con lo stampo Bastoncino È un vero bastoncino Cupcake Con frutta Un colore Stranissimo Un waffle Con frutta Vabbè Questi sono Fatti con gli stampi Quindi li togliamo Poi cominciava pure L'era delle ciambelline Poi Ah Di questa Di questi Vado molto fiera Anche se so Che si può fare Di meglio E sono Il cornetto Secondo me Molto Realistico Questa Ciambella Così semplice Questi due Che dovevano essere Biscottini Con cioccolato Questo Con marmellata Quest'altro Croissant E questi due Che mi piacciono Tantissimo Dei Biscottini Cookie Kawaii Belli Io li Che ho fatto Poi vabbè Tanti 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 Macaron Di tutti i colori Questo Vaschettino E solo Macaron Qui ci sono Altre ciambellone E ciambelline Questa era piena Di confettini Che si togliono Questa non so Che cosa Gli è successo Scusate C'è quest'altra Vabbè Qui sono tutte Ciambelline Appiccicose Poi Un'altra cosa Che secondo me Mi era riuscita Particolarmente bene Ma sono tutti Esperimenti E questa Torta E beh Con le due Con i due Spicchi Eccoli qua E così Dentro Poi Cupcake Questi erano Di quando Non avevo Lo stampino Per il sotto Quindi lo facevo A mano Ok Poi ci sono Gli animali Un delfino Un coniglio Guardi Quando Cominciavo A stare un po' Attenta A non sporcare Il fimo Questa dovrebbe Essere Un delfino Ma è cicciotto È venuto Un po' Cicciotto Tantissime Tantissime Tartarughe Allora Qui c'è Un draghetto Che ho copiato Da non mi ricordo Chi Un cagnolino Ciccione Con codina Una prima Tartaruga Una seconda Tartaruga Dipinta Mi piace troppo Una scimmia Con banana Che la faccio Schiacciata Un'altra scimmia Con macchie nere Tartarughe Di ogni specie Una diversa Vabbè Tartarughe Tante Ve le faccio vedere Così alternate Piante grasse Ok Poi Gufo Cuccinella Sul quadrifoglio Cuccinella gigante Questa forse È la prima Tartaruga Un orsetto Azzurro Un'altra Cuccinella Questi Sono nati Insieme Gattino nero E gattino Bianco Che dietro Sono così Altri camicicciotti Ah questa È la La sorella Di questa Cagnolino Con la lingua Di fuori E un altro Anche di questi Vado abbastanza Orgogliosa Pandino Di diversi Con diversi Sguardi Questo sembra Allucinato Un polcino Un Coniglio Senza coda In pari Tu occasioni Mi scordo La coda Un jaguaro Senza coda E poi Uno Due E tre Fantastici Porcelli Tre Porcellini Chiaro c'è di qua Aspettate Mi devo alzar Poi vabbè Stelline Ma Sono Esperimenti E Piccolissimi Piedini Poi Niente Quelle Nelle scatole Finiscono Qui Poi come vi dicevo Ho fatto Tantissime Cornici Nascita Alcune Cornici Solo per le foto Di quelle Vado veramente Orgogliosa Però Non ho Non ho ancora Trovato modo Di caricare Le foto Non ho mai tempo E non credo Di farcela Nemmeno stavolta Quindi Niente Questi erano I primi esperimenti Che vi avevo promesso Al raggiungimento Dei Dei Cento iscritti L'abbiamo passati Da un bel po' E Niente Spero Per il momento Sto Diciamo Ferma Perché Mi è finita L'ispirazione No vabbè In realtà In questi giorni In questi ultimi Mesi Dopo aver scoperto L'allergia Agli acari Che inizialmente Pensavo che era Allergia Che ne so A resina Fimo Stai roba così Diciamo Mi sono concentrata Su altre passioni Tipo La mia agenda Ho ripreso Alla grande A A decorare A scrivere Quindi diciamo Che un po' Ho Ho smesso Di lavorare il film Però ecco Ultimamente Sono un po' di giorni Specialmente da quando Comunque Siamo più a casa Che avrei voglia Di Però Devo sempre aspettare Il momento giusto L'occasione giusta L'ispirazione giusta Non mi va di Apparecchiare Tutto quanto Per poi Trovarmi lì Con il film in mano E non sapere Che fare Ecco Spero che questo video Vi sia piaciuto Spero di farne altri A breve E vi mando un bacio Grosso grosso In bocca al lupo a tutti Come Stanno dicendo Adesso In giro E secondo me Molto incoraggiante Tranquilli Che andrà tutto bene Vi mando un abbraccio E un bacio Buona fortuna Tenete duro Rispettiamo tutte le norme Igeniche E comportamentali Che ci hanno chiesto Di rispettare Si tratta De un po' di giorni Non è come andare in guerra O come quando ci sono state Altre epidemie Possiamo rimanere in contatto Con tantissimi mezzi Quindi mi raccomando Facciamo i bravi E usciamo fuori Da sto momento Brutto 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 Per il nostro paese Per tutte le nostre famiglie E per tutte le persone Che stanno lavorando Per garantirci il meglio Quindi Un saluto a tutti Ciao